La nostra amica Roberta che è in ospedale con l'autore di varietà esternale. Ma il motivo principale per cui siamo qua, e che mi riguarda bene, è quello che noi siamo qua per risvegliare le emozioni, le cosiddette farfalle dell'esternale. Questa ha già le farfalle, ragazzi. Siamo qua per risvegliare le farfalle. Buonasera ragazze, siete nuove? Benvenuta. Vedo che hai un bel dirinzettaio. Simona, ciao. La nostra Nadia, sempre presente. Ciao, questi ragazzi sono nuovi. Buonasera, benvenuti. Queste sono le pietre miliari, ci sono sempre a sostenerci. Grazie ragazzi. Queste qua anche loro nuove, giusto? Benvenute. Buonasera. Quando vedete una persona che vi piace, prendete carta e bella. Anche qua abbiamo delle belle signore, buonasera. Qua abbiamo un idraulico che si nasconde, che però conosciamo tutti. La nostra Milba, che adesso ci segue sempre. Brava Milba, ti vogliamo sempre con noi. Ma certo, ma certo. Brava, benissimo.